Ed ecco il gelato del Bomber e Castaldo, da generosi, il gelato del lupo, con Castaldo ci siamo salvati, il Bomber è sempre lui, anche l'anno prossimo, anche il Bomber è sempre lui. Scusa Diego, come è il gelato alla Castaldo? È ottimo, è ottimo, sono tifoso dell'Avellino. Ah bene, ci fa piacere, e quindi tu hai anche cambiato i vesti della canzone? Sì, sì, l'ho dedicato. La nota dedicata al Biancolino, una nota al Bomber è Gigi Castaldo, come fa sta canzone? Ti piace, ti piace, ti piace il gelatino, a gusto, a gusto, a gusto di Gigi Castaldo, ti piace, ti piace l'Avellino, poco Gigi non c'è, ne andremo in serie A, sempre l'anno prossimo. Ma intanto come sta andando il gelato del Bomber? Andava a Gompiavila va, sempre il gelato del Bomber lo hanno trovato ad Avellino. Sì, e quali sono gli ingredienti del gelatino dedicato? Il sudore della maglietta di Gigi Castaldo. Ah, il sudore della maglietta... Di Gigi Castaldo, il bomber, nel gelato, nel gelato. Ah, nel gelato. È gustoso, è gustoso. Ah, non lo sapevo, non so se è possibile, insomma. Il sudore, poi cosa c'è? E poi c'è il latte, il latte della lupa. Ah, il latte della lupa. E il sudore di Gigi Castaldo, il bomber. Ma Gigi Castaldo lo sa, insomma, che il suo sudore sta in un gelato. Lui non sa niente, è una sorpresa, adesso fra un giorno lo vado a prendo e lo porto a casa. Ah, beh. A fanacina sì, ma tutti i meglio, quelli che hanno sudato la maglia d'avellino. No, io pensavo di portarvi a casa per fargli strizzare un altro po' di sudore. No, no, adesso si deve riposare per l'anno prossimo. Va bene, e allora niente, noi invitiamo Gigi Castaldo a assaggiare questo gelatino. A tangelo, a tangelo, a tutto. Eh, tra l'altro, caro bomber, c'è anche il tuo sudore nel gelato. Va bene, va bene, tutto a posto. All'anno prossimo, se facciamo la squadra B, possiamo fare i playoff. Ma tu dimmi la verità, tu che sei un tifoso verace, quando Gigi Castaldo ha gonfiato la rete, cosa hai fatto? Eh, ho gonfiato la verità. Mi ho fatto un viasco di vino da tre litri. E dopo non ho capito più niente. Ah, ti sei abbandonato tra le prassi. Mi sono rilassato, mi sono rilassato. E lì è nata l'idea... L'idea del gelato dal bomber. Sì, e quindi chiudiamo con la canzone dedicata al gelatino di Castaldino. Ti piace, ti piace, ti piace il gelatino? A gusto, a gusto, a gusto di Castaldino. Ti piace il lavellino? Poi con Castaldino l'anno prossimo andiamo in Serie A. Scusa, ma questa è una bottiglietta con il sudore di Castaldo o... Eh, Generò? Ui. Questo è il sudore di Castaldo oppure... No, quella è acqua naturale. Ah, quella di Castaldo ce l'hai come reliquia nell'ampolla tipo San Gennaro. Tutto a posto, a che ora si brinde? Alle due. Alle due, grazie.